E allora buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, quel che sarà ragazzi oggi come avrete letto dal titolo. Vi mostro la mia rosa del Fanta Calcio ragazzi, prima di tutto. Iscrivetevi al canale dei ragazzi che vi metto il link in bio con cui ho fatto il Fanta, Fanta Calcio degli Youtubers in 8, 500 crediti. Altra cosa importantissima, un like, un'iscrizione, condividete il video con i vostri amici, ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa rosa. Se volete vedere le loro rose andate sui loro canali che appunto vi metto il link in bio. Scaricate soprattutto anche l'app di OneFootball, mi raccomando, app gratuita che vi tiene aggiornati a 360 gradi sul mondo del calcio. Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Bundesliga, Premier League, sulla vostra scuola del cuore, sulle altre scuole degli altri campionati europei, ma anche al di fuori dell'Europa, Argentina, Brasile. Quindi ragazzi veramente scaricate, la miglior app per il mondo calcistico. News di calciomercato, news della tua scuola del cuore e appunto delle altre scuole. Quindi mi raccomando scaricate, link in bio. E ora possiamo partire. Partiamo dai portieri, ovviamente. Allora, portieri in cui vi avverto, non c'è nessun big. Non c'è nessun big per scelta mia anche sicuramente. Però mi sono mosso in questa maniera. Perché ragazzi? Perché mi sono mosso in questa maniera? Mi sono mosso in questa maniera perché ho detto puntiamo più alla difesa e agli altri reparti piuttosto che prendere pochi gol. E questa è una mossa molto azzardata. Perché ora vi dirò i tre portieri della mia rosa del Fanta e anche a quanto l'ho preso ovviamente. Voi poi mi direte la vostra, anche se io giudico questo reparto gestito un po' male secondo me. Perché sono entrambi i tre portieri che prendono tantissimi gol per le rispettive squadre che ora vedrete. Però allo stesso tempo ho detto ragazzi, io devo risparmiare. Infatti sono arrivato ai difensori con più crediti di tutti. Quindi ora vi svelo i portieri. Allora, primo portiere, Cragno preso a due del Monza. Cragno, Cragno che viene da una retrocessione con il Cagliari. Ragazzi, Cragno che viene da, mi sembra, 70 gol presi. Lo scorso anno sono i 9-80, ma non vorrei di scemenze. Però tantissimi gol presi, ma aveva anche una difesa da mettersi le mani nei capelli. Anche se quest'anno, nonostante il Monza per me prenderà tanti gol perché ragazzi è una neopromossa. Le neopromosse solitamente li prendono 50-60 gol. Però c'hai Ranocchia, c'hai Carboni. Carboni era il Cagliari, però non era così scarto, secondo me. Carboni non ha nemmeno fatto male. Hanno preso Marlon. Ecco, Marlon potrebbe essere il punto di questa difesa del Monza che mi può salvare Cragno. Io lo spero perché io non vorrei prendere troppi gol. Comunque Cragno a due, per me ci sta. Al due Cragno ci sta tantissimo. Secondo portiere è preso a quattro Silvestri come anche il terzo Consigli. Quindi quattro per Silvestri e quattro per Consigli. Allora, anche qui, stesso discorso. Udinese che non prenderà troppi gol, io mi auguro. Perché l'Udinese, ragazzi, ricordiamocelo, anche se ha cambiato allenatore e tutto, ma l'Udinese è sempre stata una squadra che anche se prende quella cinquantina di gol, non li prende ogni partita. Però c'è delle partite in cui l'Udinese fa clean sheet, clamoroso, perché è accaduto tante volte l'anno scorso con la Fiorentina, mi viene in mente. L'hanno fatto anche in tanti altri pareggi, 0-0. Quindi l'Udinese è sempre stata una squadra così. e secondo me Silvestri ha anche come cranio uno e può anche parare rigori. Perché, ragazzi, Silvestri deve ritrovare quella forma che aveva le prima due anni fa. La deve ritrovare. Io ci avevo già provato l'anno scorso con Silvestri, ma io ci riprovo. Terzo portiere, invece, come vi ho detto prima, consigli a quattro. Questo l'ho preso a quattro. Anche questo, secondo me, è un buonissimo portiere. Difesa del Sassuolo, un po' in bambola. Quest'anno mi sembra di vedere anche col Modena, ragazzi, tre pizze hanno preso. Però consiglio, lo scorso anno, nonostante il Sassuolo prendeva anche tre, quattro gol e prendeva sempre sette. Quindi, diciamo che c'è una bella differenza tra prendere un 5-4-1 e prendere sette, prendere tre gol, quattro. Quindi, insomma, sono sempre punti che fanno la differenza. E per me, nonostante abbia speso soltanto dieci crediti, è un reparto di portieri, il primo reparto, io gli do un 5,5-6-. Perché, ragazzi, potevo sicuramente muovermi molto meglio, potevo sicuramente, sicuramente prendere un big, lo so, sicuramente. Però, questi sono i miei repartiati di questa asta del Fanta. Quindi arriva i difensori con 490 crediti. Primo difensore, signori, Dodò della Fiorentina, ovviamente. 19 crediti, quindi ne rimangono 471. Dodò a 19 è un colpo molto interessante, perché potrebbe sembrare una cifra molto alta, ma se pensiamo al fatto che è un terzino, è uno che spinge, è uno che attacca, è uno che difende, è uno che sicuramente ha preso anche due rossi in Champions League, però, ragazzi, se pensiamo che i centrali, come Scrinner e Tomori, sono partiti sui 30 crediti, un terzino, 19, non sono tanti. Dai, parliamoci chiaro, perché il terzino ha molta probabilità di fare più gol di Scrinner o di Tomori, con tutto rispetto, ma anche di Bremer, però, 19 crediti perduto, io lo valuto un grande acquisto. Secondo difensore, questo è il colpaccio della difesa, Milenkovic a 2, asta fatta il 3 d'agosto, quindi ancora Milenkovic era, come si può dire, era ancora in fase di stallo, anche se ormai è ad un passo dal rinnovo, quindi, crediti rimanenti 4,69, 4,69 in questo momento, quindi, due difensori, e i tre portieri avevamo 4,69, quindi Milenkovic ha 2 che io spero porti bonus, l'anno scorso non me l'ha portati, però è già il terzo, quarto anno che punto su Milenkovic, io ci credo, perché l'anno in cui fece quei 5, 6 gol, insomma, fece veramente tanto bene, fece molto bene. Poi, signori, ho preso il terzo difensore a 4, Erlich del Sassuolo, Erlich che, nonostante sicuramente, allora, io spero sia titolare, perché il Sassuolo normalmente gioca con Ayan e Ferrari, però Erlich, la seconda ha fatto lo scorso anno allo Spezia, secondo me, merita il potere titolare in questo Sassuolo, pesa 4, lo scorso anno mi sono trovato molto bene, mi ha fatto anche 2 o 3 gol, quindi, adesso un centrale a 4 va più che bene, quindi siamo sui 465 crediti, ragazzi, eh sì, 465 crediti, ragazzi, che, comunque, siamo quasi a metà difesa e tanta roba, tanta, tanta roba, non sicuramente dei clamorosi, dei nomi clamorosi, però, non è male, non è male, finora, quarto difensore, Parisi dell'Empoli, a 6, Parisi, l'ho preso, perché comunque, mi ha convinto, fa delle buone prestazioni, non porterà tanti bonus, sicuramente, però, allo stesso tempo, Parisi ha una scommessa, come sono le altre 4, ragazzi, perché io ho preso 4 giocatori a 1, che ora vi dico, uno dietro l'altro, il primo è Becao a 1, quindi, Becao a 1, dell'Udinese, il secondo, è Stojanovic a 1, quindi, altro difensore centrale, che però gioca anche terzino Stojanovic, terzo a 1, ho preso Bravaric, dalla Salernitana, e come quarto, sempre a 1, quindi ultimo difensore, Vazquez, della Cremonese a 1. crediti rimanenti, 455, per i centrocampisti e attaccanti. Allora, questi ultimi 4, che vi ho detto, Becao, Stojanovic, Bradaric e Vazquez, sicuramente, sono delle scommesse, però Vazquez, l'anno scorso, si è mosso bene al Genoa, Stojanovic uguale, Becao e Parisi e Bradaric, sono due scommesse, sono due scommesse, perché, non sono giocatori, che, come si può dire, la Bradaric, è una scommessa clamorosa, perché, potrebbe fare bene, però, ho mai ispirato questo nome, Bradaric, Bradaric, e allora l'ho preso, spero faccia qualche parte, della Salernitana, Becao, per me è una certezza, lì dietro, cioè, Becao prende sempre il suo 6, 6,5, quando l'Udinese, e mi deve salvare, ecco, anche qui Becao deve salvarmi, qui Becao deve salvarmi Silvestri, ecco, comunque, difesa a cui io le do un 6,5, non di più ragazzi, non oltre il 7-, 7-6,5, perché potevo sicuramente fare molto di più, però Minecovic e Dodò, intanto me li sono preso, e ora, è partito il bello, dato che avevo 455 accrediti, 800 campisti da prendere, mi sono sparato un bordello di soldi, un bordello di fantamilioni, primo colpo a centrocampo, perché su fantamaster, è quotato centrocampista, Angel Di Maria della Juventus, a 35 fantamilioni, e questo è il primo colpo del centrocampo, colpaggio, qui non voglio storie, se regge fisicamente Di Maria, è una bestia, è una bestia, con accanto anche Blavic, e l'arrivo di Kostic, perché è arrivato anche Kostic, arriverà anche Kostic alla Juve ragazzi, quindi Di Maria, 35, tanta roba, secondo me, andiamo avanti con Pellegrini, Pellegrini preso a 32 fantamilioni, anche qui, che cosa si deve dire su Pellegrini, centrocampista che, ha sempre portato tanti bonus, ha sempre fatto tanti assist, sempre tanti gol, l'anno scorso soprattutto, e soprattutto con accanto, Wijnaldum, Dybala, Abram, Zaniolo, non volete che Pellegrini, faccia qualche bonus, se no veramente, mi sparo, perché, ora, non pesi anche altri, che poi vi dirò dopo, della Roma, però, ragazzi, Pellegrini a 32, per me è un colpaccio, e, terzo centrocampista, dopo aver speso 67 crediti, a centrocampo, Nico Gonzales, a 21, Nio Gonzales, ecco anche lui, centrocampista, fantamaster, e così va bene, lo ringrazio, lo ringrazio, e, centrocampista, quindi molto bene, secondo me, molto bene a 21 crediti, perché, nonostante l'anno scorso, non abbia fatto 50 gol, però non ha fatti 7, ha fatto 2 o 3 assist, insomma, può essere la stagione, di Nico Gonzales, chi lo sa, potrebbe anche esserla, io lo spero, soprattutto, quarto centrocampista, frattesi a 15 del Sassuolo, altro colpo interessante, l'anno scorso, ci ha portato tanti bonus, in generale, ha portato tanti bonus, ai fantallenatori, quindi, perché non provare, anche noi, a prendere frattesi, che, quest'anno, giocherà sicuramente, il Sassuolo, accanto, quest'anno, dietro, Maxime Lopez, e accanto, ha la Tor Svet, nuovo acquisto del Sassuolo, che, anche quello, è veramente, molto interessante, secondo me, come giocatore, frattesi a 15, quindi, ragazzi, per ora, a centrocampo, abbiamo speso la bellezza, di, 102 fantamilioni, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra, poco di sì, perché, ho preso di Maria a 35, Pellegrini a 32, siamo a 67, quindi, più 21, 88, 103 crediti, 103 crediti a centrocampo, e ne mancavano 4, e gli ultimi 4, li ho presi un po', meno, ovviamente, ho preso Coop Miners, a 9, questo, è un colpaccio, perché Coop Miners, nonostante sia un mediano, nonostante sia un regista, può trovare i bonus, ragazzi, può trovare i bonus, insieme a lui, ho preso, sempre dall'Atalanta, nuovo acquisto, di quest'anno, Ederson a 6, quindi, ragazzi, siamo sui 118 fantamilioni, Ederson, stesso discorso di Coop Miners, per me è un colpaccio, anche questo, preso a 6, ragazzi, è un colpaccio, ultimi 2, ho preso Boinen, a 2, dalla Salernitana, che un po' di spazio, secondo me, lo può trovare, ha fatto anche qualcosa, insomma, nulla di clamoroso, ultimo centrocampista, ho preso Icone, della Fiorentina, ovviamente, a 6, Icone, stesso discorso di Conzales, io spero che, nonostante l'anno colpo, non abbia fatto praticamente nulla, Icone, io spero che possa esplodere, spero che possa fare quei 5, 6, ma spero anche più, di 7 gol, e anche assist, perché se no, qui, il mio centrocampo, mi reggono soltanto di Maria Pellegrini, e frattesi, cioè, io spero con tutto me stesso, che Icone possa fare, con i bonus, quindi signori, arriviamo al reparto attaccanti, con la bellezza di, circa 329 crediti, più o meno, una cosa del genere, e ora, signori, attaccanti, allora, allora, stesso discorso, allora, qui ho fatto, secondo me, una cavolare, grossa, perché, allora, potevo tranquillamente prendere un MIG, ho trattato per Abram, ho trattato per Blaovic, fino a un certo punto, trattato per Immobile, fino a un certo punto, Idem per Berardi, ma poi lo lasciate andare, Blaovic è partito a 215, Immobile è partito a più di 100, 30, una cosa del genere, Berardi a 160, Leao a 112, Lukaku a più di 100, allora, io ho detto, perché non prendere proprio lui? Ragazzi, qui il tifoso fa la differenza, Luca Iovic a 90, signori, primo attaccante di questo attacco a 6, eh, bel rischio, bel rischio, perché è una scommessa, però, se torna quello dell'Aintracht, io voglio, io lì godrei, come un, non so cosa, perché veramente, Iovic deve essere la sua stagione, ragazzi, se no, veramente, la Fiorentina come fa ad andare avanti, senza attaccante, cioè, se Iovic non fa almeno 15 gol, dove si vuole andare? Dove cavolo si vuole andare? Dove si vuole andare, ragazzi? Dove si vuole andare? Comunque, primo colpo a 90, Luca Iovic, e fin qui, non c'è nulla da dire, e ora, il colpaggio l'ho fatto anch'io, secondo me, in attacco, dato che è quotato attaccante, quindi è considerato attaccante, come vi avevo detto prima, della Roma non pese altri, quindi un altro, per essere esatti, per essere precisi, Paolino Di Bala, a 129, a 129, è stata una trattativa molto lunga, però sofferente, però allo stesso tempo, è stata una trattativa, un'asta, insomma, per Di Bala, che si è concluso nei migliori dei modi, perché Iovic e Di Bala, sicuramente, li posso mettere insieme, soprattutto alla prima, perché la Fiorentina gioca la cremonese, la Roma gioca con la salernitana, quindi ragazzi, oh, Di Bala a 129 è tanto, eh, però, se regge fisicamente, come vi ho detto prima, la Roma c'ha, Guainaldo, Pellegrini, Zaniolo, Di Bala e Abraham, cioè, tanta roba per la Roma, io spero Di Bala, quei suoi, non dico 15, ma 10, 8, assist, anche, li possa fare, ma anche gol, ovviamente. terzo attaccante di questo fan de calcio, Federico Bonazzoli, il ritorno del, pum pum di Salerno, del pistolero di Salerno, preso a 26 crediti, allora, Bonazzoli l'ho preso, perché l'anno scorso, mi ha convinto molto, il fatto che ha fatto, 10 gol, mi ha veramente colpito, anche il suo atteggiamento in campo, i gol di Lovicciato, con Milan e Edempoli, anche su un po' fortunati, però, Bonazzoli è stato la, è stato il perno, dell'attacco della Salernità, dello scorso anno, che li ha fatti salvare, con 10 gol, come vi ho detto, e a 26 non è nemmeno troppo, calcolando che, gioca sempre titolare, ora non guardate che non ha giocato il Parma, quarto attaccante, preso a 24, fantamilioni, crediti, come volete dire, oh che re che della Cremonese, oh che re che ce l'aveva anche lo scorso anno, oh che re che, preso a 24, e secondo me è un bel colpo, perché l'anno scorso mi portò 5, barra 6 gol, poi si fesce male, non ritorno più a quello che re che di prima, se no anche alla Roma ragazzi, l'anno scorso, oh che re che tra le tante cose, oh che re che 24, non è male, però come vedete l'attacco, ora dopo facciamo anche il resoconto finale, mi sono dimenticato di dare il voto al centrocampo, comunque, oh che re che 24 ragazzi, e concludiamo con Beto a 30, e Agustin Alvarez a 30, Beto a 30 secondo me ci può stare, Agustin Alvarez mi sa che l'ho presa in quel posto, perché purtroppo, il sassuolo è vicinissimo a Pinagol, a Pinamonti, quindi se Agustin Alvarez, allora innanzitutto parte la spadola, quindi quello è molto bene, è un bene per me, Agustin Alvarez a 30, io spero giochi, è stato l'ultimo colpo da fare, crediti rimanenti, 0, che si deve fare, che si deve fare, comunque, dato che me ne sono dimenticato, come vi ho detto prima, centrocampo, io gli do un 8 e mezzo ragazzi, magari sono esagerato, ma Di Maria, Pellegrini, Niko, Frattesi, Kup, perché io lo pronuncio Kup, ovviamente Miners, Ederson, Econè, insomma, è un bel centrocampo, attacco invece, gli do un 8 meno, 8 meno, quindi nel complesso ragazzi, parliamo di una rosa intorno, quindi facendo un conto, do 5 e mezzo, parla 6 meno ai portieri, quindi siamo, ok, poi ho dato, un 6 e mezzo, parla 7 meno, quindi siamo sul 6, più 8 e mezzo, perché io magari esagero, ma siamo sul 7 più, più un 8 meno, ragazzi, siamo intorno alla rosa per un 7, 7 più, non di più, ditemi la vostra qui nei commenti, mi raccomando, io vi lascio nuovamente, vi ridico nuovamente, del link dei canali, dei ragazzi del Fantacalcio, qui sotto, ve li lascio, andate a seguirli tutti, hanno messo tutti il video della rosa del Fantacalcio, questo è stato uno degli ultimi a mettere, ma se non l'ultimo, però per motivi, insomma, di video, prediction, eccetera, ho trovato, soltanto libero oggi, quindi per registrare questo video, che vedrete, nei prossimi giorni, ora, oggi è il 9, io penso lo vedrete, Massimo, giovedì non oltre, quindi l'11, che dire, io sono abbastanza soddisfatto di quest'asta, sicuramente la sua riparazione, dovrò accedere a qualcuno, perché devo fare il mercato, perché ragazzi, ci è rimasto fuori i costi, ci è rimasto fuori un bordello di gente, che dire, io vi saluto, vi ringrazio, per essere arrivati fino a questo punto del video, mi raccomando, un bel like, un'iscrizione, condividete il video con i vostri amici, e, mi raccomando, statemi bene, buona giornata, o buona serata a tutti, mi raccomando, sempre forza viola, anche se non c'entra nulla, ma io vi saluto e vi ringrazio, ciao ragazzi.